Si chiama Batar Panoce, sgranare le pannocchie, arte dei contadini d'un tempo delle nostre campagne riproposta con le stesse macchine di allora nell'omonimo palio comunale delle Borgate di Trevignano giunto quest'anno alla ventesima edizione con diverse novità. Si svolgerà dal 23 al 26 di giugno con una novità perché quest'anno oltre al palio comunale e oltre al palio delle Borgate ci sarà il super palio che sarà una sfida tra chi ha vinto il palio delle Borgate l'anno scorso e il palio comunale sempre l'anno scorso. Novità che in occasione del ventennale continuano con il coro Gian Domenico Faccin di Trevignano e il repertorio di canzoni popolari e brani classici della tradizione italiana dedicati all'amor di patria considerati i 150 anni dell'unità d'Italia. Nel cuore del palio è la sfida sgranare la maggior quantità di pannocchi in un tempo prestabilito servendosi della macchina da batter panoce appunto utilizzata dai nostri contadini prima dell'arrivo della tecnologia sfida dura, competitiva e ovviamente agonistica vinta l'anno scorso da Trevignano impostasi dopo anni sul Signoressa Arrivata Seconda. È una manifestazione ormai collaudata la gente ci tiene moltissimo ci teniamo anche noi come amministrazione comunale siamo sicuri sarà un grandissimo successo.